confini, mettiamola così. Senta professore, le chiedo a guardare la pianta dell'Europa, in generale del mondo, ma in particolare dell'Europa, io vedo un'Italia che in questo momento se la sta cavicchiando, ma che è circondata per davvero. Allora le chiedo, arriverà una seconda ondata? Io sono un immunologo e in genere non commento le punte. Certo, non c'ha la palla di vetro immagino. Detto questo, noi ci siamo comportati bene, continuiamo a comportarci bene e possiamo fare meglio degli altri, come abbiamo fatto meglio degli altri. Qual è la vera arma che abbiamo? Le chiedo alla fine, sono i farmaci o è il tracciamento. Abbiamo i diagnostici, quindi testare, tracciare, trattare e poi il comportamento individuale. Certo, la nostra responsabilità. E alleniamo il sistema immunitario.